Le settime elezioni dal 2021. I bulgari si recheranno alle urne domenica 27 ottobre, tra il fallimento dei politici, che non sono riusciti a formare una coalizione stabile, e gli elettori, sempre più indifferenti all'esito del voto. Lo scorso giugno, l'affluenza ha raggiunto il minimo storico del 34%. Il quadro politico della Bulgaria, membro più povero dell'Unione Europea e uno dei suoi stati più corrotti, è infatti nel caos da anni. Nonostante il primo posto alle urne il 9 giugno scorso, il partito conservatore Gerb, dell'ex premier Boiko Borisov, non ha riuscito a portare a termine con successo i negoziati con il Movimento per i diritti e le libertà e con la destra populista, dice un popolo come questo. Gli ultimi sondaggi suggeriscono che il voto di domenica non cambierà molto, con gli stessi tre partiti in testa. Gerb, dell'attuale coalizione, il cui leader è il primo ministro bulgaro più longevo dalla caduta dell'Unione Sovietica, dovrebbe ottenere il maggior numero di voti. Anche il partito filorusso di destra rinascita sta crescendo, con l'approvazione per l'UE che ha raggiunto il minimo storico nel paese al 46%.